Good morning Milano, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, 7.09 in questo istante, mercoledì 26 giugno 2024 e finalmente questa mattina non piove, la notizia è questa, ma soprattutto la notizia è che alle 7.09 del mattino non sono da solo in questo studio, perché è venuto a trovarci prima di noi, in questo caso e non dopo di noi, Ambrogio Curti. Buongiorno Ambrogio, posso dire Good morning Milano, l'abbiamo registrata questa per il promo di settembre, perfetto, ci serve per il promo di settembre, anche perché mi sembra che nella tua sigla, o meglio nel tuo, insomma, c'è qualcosa di nostro. Tu mi hai fatto un grande regalo, perché hai registrato un pezzo della tua trasmissione dedicato a SentiQuesta, che è il tuo regalo che mi hai fatto di una trasmissione che va in onda dopo di noi. E continuerà, perché noi finiamo venerdì, ma invece Ambrogio va avanti tutta l'estate e quindi 3317853555, anche voi andate avanti tutta l'estate, noi, ve l'ho detto, venerdì finiamo qui, ma, appunto, Ambrogio va avanti e voi cosa fate? Ditecelo, quello è il numero di Whatsapp, noi siamo pronti con un po' di musica e siamo qua fino alle 9 in diretta per raccontarvi un po' quello che succede a Milano, tanti ospiti da cui, appunto, Ambrogio. E iniziamo con la musica, con i Clash Rock the Casbah. E hai detto poco? I Clash con Rock the Casbah e siamo qui con Ambrogio. Ambrogio, arrivano già dei Whatsapp anche per te, perché al 3317853555 c'è appena scritto Alberto. Ciao Alberto. Ecco, e dice buongiorno a Fabio e Ambrogio e alla redazione e agli ascoltatori e fin qua tutto bene, grazie. Perché sai che Alberto poi è sempre fattuale, cioè lui ci dà proprio, e infatti dice a un certo punto, ricorda Ambrogio, ricorda ad Ambrogio, che alle 8.45 comincia lo sciopero del trasporto pubblico? Eh, sono in macchina. Ah, ok. Però troverò la multa sicuro perché qua fuori non c'è posto. È vero, no, quindi non c'è posto, però vabbè dai, non diciamo che se ci stanno ascoltando adesso prendono subito la... Stavano andando in Corso Vercelli i vigili, hanno girato la macchina per venire qua adesso. Dopo ti dico dove ho messo la macchina, non metti a ridere. Ecco, non lo diciamo a chi ha saluto la polizia locale. Io volevo descrivere, questo studio di Fabio è una cosa incredibile. Io mi guardo in giro e vedo delle cose incredibili in questo studio. E' un museo di modernariato, ci sono dei plastici alle pareti. Cioè i plastici, cioè quelli che... Dove hai presi? I plastici, sono una lunga storia questi plastici, sono plastici di Milano sono. Bellissimi. Zone di Milano. Sì, 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 questa è la goccia della Bovisa, questa qua dietro di noi. Dietro di te c'è lo Scalofarini, davanti a noi c'è la Monte di San Siro, da quell'altra parte lì c'è la fermata del treno di Certosa, via Parizzi. Stupenda sta roba qua. Eh, ma perché... E là in fondo c'è il centro. Eh, quello là no, è Corso Sempione, Corso Sempione e Piazza Firenze. Ma è bellissimo. Eh, sì, sì, ma c'è una lunga storia, se mai avete visto le immagini delle varie sui podcast, ad esempio si vedono nel nostro studio, arrivano, pensa, da lontanissimo questi plastici, sono stati fatti dalla società, quella Euro 2000, quella che doveva costruire, che ha costruito poi invece in realtà proprio parte di Quartogiaro e così, poi è stato in triennale per anni questo plastico, posto donato a un municipio che a un certo punto ce l'ha donato a noi, dell'Associazione Spazio Umano, ci ha donato appunto questo plastico e siamo ben contenti, insomma fa molto arredamento, ma soprattutto è anche comodo per le onde sonore qui in studio, perché tra l'altro sono di legno, quindi aiutano anche da quel punto di vista. Assorbono. Assorbono, sì. Questa è una sala giochi, tu hai messo in pratica quello che io ho in mente da quando sono nato, cioè hai continuato nel sogno della sala giochi, ti sei contornato di cose, c'è una cabina del telefono, non so se avete presente, magari i giovanissimi non sanno di cosa si tratta. Cos'è una cabina del telefono? Cos'è? Però è una cosa stupenda, va bene, non quella che c'erano a Londra, che mi pare non ci siano più. No, 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 penso che ce n'è una a Ro di quelle, però se volete, se ne è una, a Ro in una via di Ro c'è una cabina del telefono inglese appoggiata lì. Che tu utilizzi per fare i podcast, gli audio, eccetera, è perfetto, è un isolamento. Poi fuori ha tutta una serie, perché è un cortiletto interno, che mi fa in mente la canzone, cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso ancora qua, cerco un po' di Africa in giardino. C'è un modernariato, c'è tanta roba che verrà utilizzata per fare delle opere, delle cose. Sì, mia nonna la chiamava la ruera. La ruera? Diceva che era la ruera e basta, diceva. Sono dei tablet delle PlayStation, delle cose. No, perché noi abbiamo qua, di rimpettaia con noi dello studio, Anna Rita Serra, che è un'artista che crea le sue opere d'arte prendendo oggetti di scarto. Detto così, so che, siate sinceri, no, non è vero, siete sinceri, ecco, la solita roba da fricchettoni, avete pensato, è la stessa cosa che ho pensato io quando Anna Rita arrivo qua, ormai cinque anni fa e mi disse, ma non è che c'è uno spazietto dove io posso mettere, oh madonna, arriva questa fricchettona a fare queste robe. Invece poi, vi assicuro, andate su Google a cercare Anna Rita Serra e tutt'altro rispetto a quello che abbiamo in mente. Lei, pensate, ha iniziato, ormai quasi trenta, non glielo dico perché sono posta rabbia che dico che è vecchio, ormai trent'anni fa, ha iniziato andando in Sardegna, lei è di origini sarde, e raccattando proprio la plastica che trovava sulle spiagge, così, senza neanche sapere cosa fosse, perché non si sapeva ancora questa cosa della plastica che veniva trasportata, insomma, un tema che trent'anni fa non era così all'ordine del giorno. Lei ha preso tutta questa plastica, l'ha portata qua, l'ha lavata, l'ha pulita, e poi, semplicemente attaccando i pezzi di plastica, ha rifatto delle famosissime e grandissime opere d'arte che appunto voi trovare sul sito e sull'Instagram di Anna Rita Serra. Segnatevi sta cosa perché... Negli anni poi si è evoluta, quindi prende anche scarti di pattumiera, diciamo, tecnologica, Quindi tablet, computer... E crea. E crea, e crea, e crea davvero delle grandissime operazioni. Ci sono state, è stata a Montreux da qualche settimana a fare una mostra, insomma, a Ginevra, ovunque, è stata in Francia, è stata in Croazia l'anno scorso, Slovenia, scusa, hanno scusato un'importante mostra, insomma, in Italia gira praticamente tutta la penisola e insomma questo è... Qui entri in un altro mondo. Sì, e soprattutto, prima di buttare qualcosa qui non puoi, cioè devi passare al vaglio di Anna Rita che ti dice sì o no. Cioè entri, siamo in via Novara, se puoi dire. Sì, 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 siamo qui in via Novara. E quando entri qua, sembra di entrare in un altro mondo, cioè in una cosa che... Io da piccolo queste cose qui le pensavo, le pensavo, di fare dei mondi... E ma poi si chiama maturità nel tuo caso, quindi si cresce oppure si rimane fermi come me, quindi si riesce a... No, no, io no, come me, insomma, tu hai messo in pratica, assolutamente. Ok, beh, detto giusto, via Novara, le grandi vie di percorrenza della città, andiamo a sentire invece dalla vera voce di Luce Verde com'è la situazione del traffico in questo istante, quindi sentiamo appunto il traffico. Luce Verde e gli U2 con Beautiful Day e vi auguro a tutti quanti che questo sia un Beautiful Day anche per voi, per me sicuramente lo è, perché ho qui con me Ambrogio Curti. Ambrogio, senti questa. Senti questa. Allora, la trasmissione... Stagione numero? È cinque. Andiamo nella sei. Partito un po' in sordina, perché prima di questa trasmissione ero in diretta con gli amici, Nello, che mi aveva coinvolto, e I matti da slegare, che era una trasmissione che andava in onda il mercoledì o il giovedì sera. E poi, niente, è arrivata la pandemia e mi sono messo a registrare, e registra qui, registra là, una sorta di podcast, li ho messi insieme e abbiamo fatto questa trasmissione qua. Senti questa, che poi è una trasmissione sbagliata. Ah, perché? Perché è sbagliata. Perché si sta correggendo piano piano. Perché, allora, è una trasmissione di canzoni. Io sono sempre stato appassionato di canzoni e musica pop, fin da piccolo, con i dischi, come tanti di noi, li ascoltavo, quelli che avevo in casa. E poi, in effetti, le canzoni sono come delle, secondo me, magari non sei d'accordo, sono come delle scatole, no? Ok. E che possono raccontare una storia più o meno complicata, bella, brutta, eccetera. Però vanno un po' scoperte. Però non è detto che il significato che l'autore della canzone, quindi testi e musica, scusate per la voce, ma io al mattino non sono abituato, sai cosa mi hanno detto? È il riflusso, mi hanno detto. È il riflusso gastro. Ma hanno detto che è il riflusso. Io non pensavo, diciamo, scusate, non ho mangiato neanche. Gastrico. Appunto. Gastro intestinal, no. No, gastro. Gastro intestinal sarebbe. È quello, mi hanno detto. No, in effetti potrebbe essere, però anche una non abitudine a parlare al mattino. Sì, sicuramente. E quindi, no, queste scatole… Come la stacca o veggie, appunto, queste scatole… Allora, io cerco sempre il significato. In realtà non bisognerebbe cercare il significato al di là della… Quella latte contemporanea, diciamo. Esatto. Bisogna prendere per quello che si suona. Poi ognuno di noi gli dà un significato in base non solo alle parole, che quelle chiaramente danno un indirizzo abbastanza preciso. Non sempre, perché ci sono canzoni di Battiato, piuttosto che di italiani, di Concato, dove non abbiamo una precisa connotazione, anche col testo. Però, secondo me, è una cosa molto personale. Quindi, io sto raccontando le canzoni con aneddoti, con cose, però alla fine poi sto sempre più, diciamo, interpretando quello che, secondo me, può dire. Quindi con frasi, al limite anche con pensieri… Suggestioni. Suggestioni. Soprattutto la musica, più che le parole. Perché, secondo me, la musica si parte dalla musica, per me, e poi arrivano le parole, come per esempio Paolo Conte fa. Perché Paolo Conte fa prima la musica, poi dall'atmosfera musicale nascono le parole. Io la vedo così, soprattutto la canzone pop, chiaramente. Non stiamo parlando di musica colta, musica classica, musica contemporanea, musica pop da fruire per fare dei viaggi. Come leggere un libro, poi una tua versione, al di là della storia, e creare delle atmosfere che ci aiutano. Perché la musica aiuta, senza musica… Insomma, lo diceva anche Vasco, no? Le mie canzoni nascono da sole e vengono fuori già con le parole, diceva appunto. Citazione perfetta. Allora, adesso hai citato invece Battiato, allora dai, guarda, l'avevo messo in scaletta dopo, ma a questo punto lo anticipo, così almeno ci ascoltiamo un Franco Battiato, poco prima della nostra pausa, adesso appunto Franco Battiato, poi qualche consiglio per gli acquisti, poi torniamo ancora qui con l'Ambrogio Curti. Capolavoro, questa è un capolavoro. Franco Battiato con La Cura, alle 7.28 minuti, qui su Crystal Radio. Good morning Milano. Nemo, The Code, dall'Eurovision Song Contest 2024, dalla Svizzera, e invece da Milano e dall'oltre po' pavese abbiamo Ambrogio Curti. Ciao, ciao. Giusto, sono le tue… le tue origini sono queste, diciamo. Sì, sono queste, sono queste. I tuoi punti di riferimento, punti di riferimento, diciamo. Sì, sì, assolutamente. No, no, scusami, se vuoi ti interrompo, perché è arrivato un WhatsApp di Alberto che ci fa i complimenti, devo dire infatti i complimenti ad Ambrogio questa mattina perché è lui che mi dà delle suggestioni interessanti, dice grande scaletta musicale questa mattina. Sì, adesso la musica, stiamo parlando prima appunto delle canzoni, le canzoni sono personali. Questa è bella, questa è brutta, sicuramente ognuno ha la sua musica, però le canzoni, come la musica, ci aiutano proprio, ci aiutano. Perché pensa a un mondo senza musica, molti dicono a me non mi fregne niente, la musica c'è o non c'è, però in realtà se non ci fosse la musica bisognerebbe veramente inventarla. Perché insomma ci fa, è la colonna sonora. Poi ognuno ha le sue canzoni, per carità, i gusti, adesso non stiamo qui a dire la musica di oggi, la musica di ieri, bella, brutta, però è importante che ci sia, ecco, quanto meno. E le radio, secondo me, hanno questa funzione, di mettere musica. Poi le parole è importante. E senti, un momento autoreferenziale mi ha dovuto, secondo me. E Crystal Radio che radio è? Crystal Radio è una radio che ha ancora, secondo me, lo spirito di quando sono nate le radio libere. Io sento Crystal Radio, mi viene in mente la radio libera, dove non sei legato a qualche carrozzone o commerciale o politico, sei semplicemente legato alla voglia di fare radio, di cercare di proporre musica, trasmissioni diverse, in modo, diciamo, anche non professionale, perché non siamo professionisti, però, secondo me, è molto importante essere, diciamo, nel mood della radio, cioè essere radiofonici senza essere professionisti. È importante essere liberi, liberi, perché, se no, insomma, dopo devi sempre scendere a compromessi, insomma. Ah, beh, sì, infatti, infatti, infatti. Invece, insomma, questo spirito di libertà, che penso sia una parola abusata ogni tanto, ma in questo caso, nel caso proprio di Crystal Radio, forse è la giusta parola, no? Le famose radio libere, ecco, c'è ne ancora una, se volete, ecco, è questa che stanno ascoltando in questo momento. Io poi legherei anche un'altra parola, opportunità, come tante cose, cioè abbiamo l'opportunità di ascoltare una radio libera, come ai tempi, e soprattutto i giovani oggi, che la radio se la fanno loro per strada, se vogliamo. Sì, 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 uno smartphone la fai. Esatto, però, in questo modo, si rivive una vecchia, diciamo, vecchia, nel senso, esperienza dei tempi, di come sono nate queste radio. E allora, era il 1984, no? Quando, appunto, hanno iniziato le trasmissioni di Crystal Radio. La canzone che stiamo andando a mettere adesso è dell'83, ma, secondo me, è stata una delle prime, secondo me, che avete messo subito sull'84. Sto parlando dei Gazebo con I Like Chopin. Vuoi mettere, vuoi mettere. Almeno dieci anni che stiamo andando a mettere quella, perché, insomma, è un pezzo che rimettiamo oggi, dopo tutti questi anni, dopo più di quarant'anni, la rimettiamo, quindi, insomma, è uno di quei pezzi, davvero, che fanno la storia anche della radio. Gazebo, I Like Chopin. Ehi, Gazebo, I Like Chopin. Com'è, com'è, com'è? La state ascoltando Ambrosio Curti. E questa, poi, è diventata inconsapevolmente un po' la colonna sonora degli anni Ottanta, perché è stata utilizzata nel film Vacanze di Natale 1983, insieme ad altre, un mazzo di canzoni, che era Dolce Vita, non so se te la ricordi, è il stesso autore, che poi non è Gazebo, ma Gazebo ha scritto le parole. Però ci sono una serie di canzoni che identificano dei periodi. Quindi, la musica come viaggio nel tempo, viaggio nella memoria, ma anche per richiamare atmosfere che solo tu, solo tu, Fabio, avevi in quel momento, no? Eh, perché questa è una cosa, bravo, bravo. Questa è una cosa che, ad esempio, io... L'Elisa, che salutiamo. Ciao, ciao. Ho avuto Finardi qui in studio una volta, e gli ho chiesto questa cosa, e gli ho detto, ma Eugenio, scusami, tu fai una canzone, hai un'idea in testa, per te magari ti ricorda anche dei momenti, perché ad esempio lui ha fatto una canzone dedicata alla figlia, no? Quindi per te ricorda quella roba lì. Poi noi pubblico lo prendiamo e ce ne appropriamo completamente, e a me ricorda, che ne so, quella canzone mi ricorda Ambrogio Curti. Non è più sua. Quell'altra canzone mi ricorda la grigliata fatta con gli amici. Che brutta canzone, scusa, quella che ti ricorda Ambrogio Curti. No, però... Dopo ce n'ho una, che non ti ho detto. Ho già capito. Chi ha seguito le puntate precedenti della nostra Love Story sa di cosa sto parlando. Però, in effetti, hai ragione. Cioè, se ne appropia il pubblico, e non è più sua, ma è di tutti, e ognuno poi la interpreta, la utilizza. Tu che hai conosciuto però tanti artisti, tanti autori, l'autore come reagisce a questa cosa? Cioè, non si sente... No, no, secondo me è gratificante. Se io esco e ti prendo la macchina e vado a famiglia di vacanza con la tua macchina, tu insomma dici, aspetta Fabio, ma vedi tutto, te veri ben, ma insomma, molla giù la macchina. Ho piacere se sei te, se fosse un altro no, però... No, le canzoni, secondo me, è diverso il discorso. Ah, ok. È sicuramente una cosa importantissima questo discorso di appropriarsi della canzone, perché secondo me l'artista vuole questo e la fa proprio per darla in pasto a tutti. Poi i diritti se li prende lui però, i monetari. Noi a volte dimentichiamo sempre questa piccola parte che effettivamente comunque è un mestiere anche, quindi insomma, va bene il romanticismo, va bene l'urgenza di esporre le proprie emozioni, dopodiché ti pago anche. Ma tu cosa fai nella vita? Faccio un musicista? Sì, ma di mestiere è così la domanda. In realtà, sì, come tutti i mestieri di arte bisogna anche, non si può vivere solo di arte, però in effetti il discorso che dicevi che il pubblico si appropria poi delle canzoni e le fa sue non è più sua se non legalmente. Non puoi essere geloso se fai il cantante. No, no, anzi, secondo me, è offrire, come se uno fa un'opera d'arte per il pubblico. Ah, guarda, ne conosco di artisti che sono gelosi delle proprie opere d'arte. Sì. Non quella di prima, anzi, ad esempio la vita per niente, ma ad esempio altri che vengono in mente. L'arte deve essere pubblica, deve essere... La musica, che è quella che mi piace, la forma d'arte che è una di quelle che mi piace di più, è sicuramente ha questa funzione. Devo dire che abbiamo tanta musica italiana che merita veramente. Prima, dopo pochi secondi, voglio capire una cosa. Oltre a ascoltarla e raccontarla, la suona anche la musica a Borgio Corti? Beh, cerco in qualche modo di strimpellare i miei studi che sto rispolverando di pianoforte col maestro Marco Polli. Saluto. Saluto. Ci vediamo dopo. Faccia edizione dopo. Esatto. Sì, perché farla poi è tutta un'altra cosa ancora, cioè cercare di farla. Pianoforte però. Ah, pianoforte, sì. Quindi diciamo che la tua banda lo suona o non suona il rock? Il rock sì, anche con l'Ukulele. Vi consiglio l'Ukulele. Bene, Ivano Fossati, la mia banda, suona il rock. Ivano Fossati, la mia banda suona il rock. La mia branda, non l'ho dormito tutta notte perché la mia branda suona il rock. Così si diceva, così si diceva. Rinnegata da Fossati. 1979. La rinnegata. Ah, la rinnegata. E il rock non tanto, io ero più per il pop. Per il pop. Cioè tipo Spandau, cioè Beatles, Ronny Stones, Beatles. Ok. Durand, Durand, Spandau. Spandau. Sono romanticoni. Pensa che non arrivo a chiederti Oasis o Blur? Perché io invece sono di quella generazione lì, sono molto più grande. Io invece Blur, vedi, vedi, vedi. Ma oggi ci hai portato un regalino, Un minuto, ragazzi, che cosa andiamo a ascoltare adesso? 1977. Inizia l'estate, ci sono i tormentoni, perché negli anni settanti iniziano i tormentoni estivi. Questo non è un tormentone, è una canzone che però andava tantissimo. Nell'estate, infatti, ha vinto anche il Festival Bar di quell'anno. Festival Bar perché, si chiamava Festival Bar perché erano le canzoni votate dei Jukebox. Ok. Quindi questa era una canzone che ha vinto perché nei Jukebox andava tantissimo. Appena senti sta canzone ti viene in mente l'estate. Ok. Infatti, c'è la sigla introduttiva del mio programma che è Senti Questa che andrà in onda dalla prossima settimana in versione un po' più estiva. Si parla un po' meno, c'è più atmosfera estiva e c'è questa canzone che all'inizio sembrava una canzone di un uomo che ha tradito la donna, vuole ritorno. in realtà appare che fosse una storia tra due donne e l'uomo viene messo in disparto. Ah, ecco, anzi, è peggio. Però si è saputo adesso questa cosa, ai tempi non si diceva. Non si poteva dire, non si poteva dire. Non dico niente, facciamo partire la sigla e poi l'ascoltiamo. E allora ascoltiamo cosa ci ha regalato e cosa ci ha prodotto per noi appunto Ambrogio Cutti e Senti Questa. E questo era Santana con Corazzone Spinado alle 8 e 10 minuti era il Cristal History di oggi qui su Cristal Radio 96.2 FM Dub Plus e tutte le altre modalità in cui potete ascoltarci ogni mattina col vostro smartphone o insomma il nostro sito internet. Questa è Good Morning Milano qui con noi in studio Ambrogio Cutti. Eccoci qua. Ciao Ambrogio. Ti amo prima di Tozzi. Eh, prima di Tozzi ti amo. Grazie Ambrogio per queste chicche. e abbiamo collegamento adesso invece perché abbiamo un ospite che ci ha raggiunto in collegamento qui con noi in diretta. Buongiorno a Riccardo Pedicone. Buongiorno Riccardo. Ma buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per l'invito. Ma grazie a te Riccardo. Allora Riccardo io leggo dalla tua bio così che almeno non si sbagliare perché si fa così per fortuna adesso una volta dovevi fare adesso tu leggi dalla bio che c'è su Instagram e in teoria dovrebbe essere quello che l'ospite vuole far sapere di sé. Allora tu sei writer, autore, organizzatore di eventi e full of shit però. È quell'ultima parte che vorrei capire Riccardo di cosa si tratta. Le prime abbiamo capito quindi se sei uno scrittore, un autore e un organizzatore di eventi volevo capire di cosa sei pieno. Cosa è quel full of shit? Ma l'ultima parte è la parte più importante invece è quella in cui dimostri che non ti prendi troppo sul serio che è una parte fondamentale secondo me. Perché dici che è così importante non prendersi sul serio appunto? Che insomma poi un giorno ti dirò che frase abbiamo scritto qua e no sulla porta d'ingresso della radio e quindi capirai che siamo forse dalla tua parte. Ma per me è importante perché amo vivermi le cose comunque in tranquillità quindi già subito presentarsi dicendo autore, scrittore, organizzatore di eventi uno ti guarda e dice sì e poi cos'altro. Allora io sono il primo che dico sì comunque faccio questo questo e quell'altro ma sempre con grande tranquillità in generale mi piace fare più cose. Perché ti ho voluto qui Riccardo? Perché qualche settimana fa hai postato un video su Instagram un reel su Instagram dove parli di Milano e vorrei fare sentire proprio l'inizio poi dopo me lo spieghi meglio forse tu adesso non lo sentirai ma mi auguro ti ricordi quello che hai detto appunto a quasi centomila persone hanno visto quella reel quindi insomma dicevi questo tu Io critico Milano di continuo e non riesco ultimamente a non vederla attraverso questa citazione di un libro di Simone Weil che è Venezia salva Il vincitore vive il proprio sogno Il vinto vive il sogno altrui Ecco è come se la città ora mi apparisse per com'è ovvero una sorta di gara a chi sogna e sogni altrui A Milano si lavora in modo guerriero e questa forse è una delle cose che mi mette più a disagio ed è un luogo comune è solo che la sensazione che ho io molto spesso è che non si sa per cosa si sta lottando e io quando lotto lotto per far sì che la mia rivoluzione non diventi un teppismo e il mio teppismo non diventi una moda e che forse siamo contornati di un sacco di passioni tristi e a volte penso ma non è che forse la vera vittoria è semplicemente ritornare a sognare semplicemente ritornare a sognare i propri sogni scoprire quali sono i propri sogni in tal caso basterebbe molto poco anche perché come diceva anche il buon Pasolini che ho qui la lotta senza la vittoria si inaridisce e allora che lotta che lotta dobbiamo fare che lotta dobbiamo fare soprattutto sogniamo i sogni altrui Riccardo ma guarda intanto quel video è una bellissima cozzaglia di più riferimenti che ho fatto con grandissimo piacere perché mi andava di portare una narrazione diversa specialmente su il relazionarci ai ritmi di una città quindi portare qualche volta una narrazione anche sui social che è un luogo in cui come hai visto poi i contenuti girano girano un sacco portare una narrazione che spinge le persone a rallentare quindi provare a rallentare con il tono di voce il modo in cui ci si esprime e provare anche a dire una cosa che ovviamente divide perché tra l'altro quando si parla di città solitamente il pubblico si divide moltissimo sì fatti fatti tuoi perché sei qui tu poi non sei di Milano tu sei di Bordenone giusto? esattamente io sono di Friuli Milano non l'ho scelta mi ci sono ritrovato per lavoro ed è stato per me un toccasane è stata una città intervibile lo è tutto ma infatti Riccardo io in questo tuo video vedo anche tanto amore proprio per Milano in realtà ma certo io credo che comunque chi vive una città ovviamente la vive anche sotto insomma attraverso i due volte della stessa medaglia cioè la vive sia con un certo disprezzo ed è giusto così la deve mettere in discussione perché la città ti offre talmente tanto ma non sempre quello che ti offre è qualcosa di positivo e dall'altra parte invece dopo averla messa in discussione la deve amare per le piccole cose per il quartiere per lo scorcio per le persone che incontra assolutamente insomma parlare di una città per parlare di una città secondo me bisogna inglobare all'interno del discorso tutte le sue contraddizioni i suoi pregi i suoi difetti ecco la cosa interessante poi di tutto questo tuo bellissimo discorso è appunto anche sui ritmi e sul rallentare e la cosa che un po' ci ha stupito anche stupidamente in realtà ci ha stupito ma perché non siamo abituati forse a fermarci anche noi a ragionare ogni tanto bene è il fatto che tu sia giovanissimo cioè tu dovresti essere quello che invece va a 300 all'ora nel nostro immaginario collettivo cioè se Ambrogio Cuti qui di fianco a me classe 1832 che anno sei Ambrogio più o meno più o meno diciamo l'età di Garibaldi più 100 ecco lui è rallentato per via della natura esatto invece ci si aspetta che appunto un ventenne cioè 3000 all'ora salto i fossi per il lungo come dicevano noi i nostri nonni invece proprio da te arriva questa richiesta anche di pensiero di dire rallentiamo un attimo beh sì ma è essenziale cioè che arrivi da una persona giovane quello che effettivamente poi può smuovere perché se me lo dice una persona molto pianzana io dico sì vabbè alla tua età magari rallenterò mi fermerò un attimino invece è giusto dirlo a 20 anni 21 anni 25 anni ma più che altro anche come promemoria cioè non è qualcosa che deve essere attuato subito però indubbiamente prendo Milano come esempio ma in generale quando si parla di progresso di un'evoluzione umana in questo momento c'è un'accelerazione dei tempi formidabile formidabile che porta con sé ovviamente anche i suoi lati negativi e quindi io molte volte anche per andare contro la narrazione comune contro i ritmi comuni mi piace dire fermiamoci anche un attimo proviamo a rallentare i tempi proviamo a a ricordarci dove siamo che cosa abbiamo intorno è un invito a vivere la realtà è un invito è un invito a riapprezzare determinate cose ed è giusto secondo me e deve sempre di più arrivare dalle persone giovani e allora gualla proprio perché parliamo di Milano adesso ci fermiamo un secondo con una canzone che appunto nomina Milano sta parlando di Calcutta con Sorriso anzi per gli amici o meglio tra parentesi Milano da Teo sulla mappa un neo Calcutta e poi torniamo qui con Riccardo Pedicone e Ambrogio Cuti sempre qui in diretta a Crystal Radio Good Morning Milano Ed era Calcutta con Milano da Teo che ho sentito Riccardo aver apprezzato Riccardo Pedicone con noi anzi Ricky Pedi su Instagram giusto? Sì giustissimo giustissimo il mio nickname da quando sono bambino l'unico che ho usato non l'ho mai cambiato ah vedi 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 ok invece insomma diciamo che anche mi piace quando uno di vent'anni dice da quando ero bambino da settimana scorsa praticamente infatti in realtà in queste settimane ne hai fatte di robe però perché insomma appunto giovanissimo ma ne hai già fatte tante tra parentesi se non sbaglio tu hai pubblicato un tuo libro praticamente a 18 anni invece di fare la patente hai pubblicato un libro giusto hai fatto questo non so capito bene sì giusto di cosa però aveva un bel titolo anche come è che si chiama? 1 a 18 e 1 a 20 ah vedi ecco ecco sì 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 1 a 18 e 1 a 20 il primo erano dei racconti brevi invece il secondo più legato alla saggistica una saggistica un po' sperimentale e il titolo è l'inesatto attimo in cui siamo morti questo è il primo o il secondo? qual era? questo è il primo e il secondo invece si chiama Nasco oggi ok ma com'è che appunto arriva questa passione per lo scrivere e soprattutto magari l'idea io credo che chiunque di noi se poi faccia un minimo di mestiere come quello che facciamo noi anche Ambrogio almeno una volta nella vita è venuto in mente dire oh scrivo una canzone scrivo un libro ho fatto una sceneggiatura per un cortometraggio però poi è rimasto tutto lì ecco invece c'è chi lo fa ecco Riccardo com'è che poi invece c'è chi lo fa? come arriva poi con la spinta del farlo? e beh questa è una bella domanda cioè se dovessi risponderti così noi prendiamo appunti intanto noi se dovessi risponderti così ironizzando ricordo un me di anni fa che avevo un fortissimo bisogno di esprimersi e la scrittura era la cosa che forse costava meno in confronto alla pittura o la regia che dovevo invece prendere dei materiali invece la scrittura non avevo bisogno di nulla perché mio nonno era cartolaio quindi penne e fogli le avevo a manetta poi in realtà se dobbiamo fare gli esistenziali c'è una mia foto da bambino in un cassetto vestito elegante davanti a una macchina da scrivere che lì sì che sembrano Garibaldi con più cent'anni altro che quindi non saprei effettivamente trovare una nascita all'esigenza di scrivere al passaggio da quando la scrittura poi da passione diventa anche lavoro io comunque non l'ho mai fatto per mestiere né lo farò mai per mestiere lo è diventato ma il compierlo per mestiere stesso non lo farò mai parte sempre da una fortissima esigenza poi state a ascoltarti ma quell'esigenza però ti porterà poi ma naturalmente a farlo poi diventare il tuo mestiere in un certo senso come funziona quel passaggio? come funziona? funziona che probabilmente l'unica responsabilità di uno scrittore è scrivere bene e poi farsi furbo come in ogni campo in ogni ambito da questo punto di vista riprendo Milano cioè Milano è stata molto utile perché io ho creato i primi contatti dal Friuli e ho trovato la scrittura la scrittura autoriale quindi la scrittura dei podcast la scrittura radiofonica come autore e poi quando mi sono trasferito a Milano per lavoro perché avevo iniziato a creare i primi contatti ho fatto un'assoluta follia perché sono scappato di casa completamente a cavolo e arrivato a Milano Milano mi ha colto a modo suo in un certo senso e secondo me alcuni potranno anche capire infatti è bravo perché noi diciamo sempre io dico sempre i milanesi io gli dico sempre i miei cari milanesi i colori che ci ascoltano i miei carissimi milanesi sono in realtà tutti quelli che arrivano in questa città da ovunque loro arrivino che però decidono di stare alle regole molto difficili di questa città che cosa ti chiede in cambio Milano? comunque l'è detta giusta ovvero comunque stare alle regole di questa città cioè Milano probabilmente ti richiede di tenere dei ritmi molto alti di vita e ti richiede di tenere duro secondo me in molte 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 situazioni dall'altra parte però Milano ti dà anche secondo me la possibilità di accelerare i tempi con intelligenza ciò che potresti farlo magari in quattro mesi lo fai scusami in quattro anni magari lo fai in quattro mesi ti basta incontrare la persona giusta insomma poi si parla di una carriera personale in questo caso qua però per esempio che cosa mi ha richiesto Milano? Milano mi ha richiesto di fare il panettiere i primi cinque mesi lì e questa è una cosa utilissima però però scusa Riccardo cioè allora voler farlo scrittore adesso la scusa mia voler farlo scrittore iniziare come panettiere però non va bene cioè l'ha già fatto quell'altro l'ha già fatto Fabio Golo cioè non è l'ha già fatto quell'altro ma invece va bene tra l'altro io non sapevo Fabio Golo avesse fatto la stessa cosa sì sì io gli voglio bene Fabio Golo ma lo dice ogni tre per due lo ricordo quando lui si svegliava devo dire che forse effettivamente se anche io mi svegliassi tutte le notti tra le tre e mezza alle quattro forse andrei avanti anche a ricordarlo sempre perché deve essere un bel mazzo no no decisamente decisamente ma sai per me era importante trovare un lavoro manuale e provare ad affacciarmi a Milano attraverso quella tipologia di lavoro lì sempre per la serie non voglio prendermi poi troppo sul serio non volevo prendermi troppo sul serio ovvero credo moltissimo nei miei sogni nelle mie ambizioni credo moltissimo nel mio coraggio però bisogna anche secondo me avere poi un'umiltà di poter trovare anche delle altre realtà in cui allenarsi allenare altre parti di sé per me era importante arrivare a 17 anni a Milano e saper battere cassa saper avere a che fare con i clienti avere un'altra tipologia di skill oltre il fatto di saper scrivere e nessuno mi aveva mai detto sai scrivere bene quella cosa lì magari è arrivata ancora dopo dimmi che erano di quelli che a scuola i temi gli prendevano pure i voti bassi non ci credo io non ho mai finito le superiori qui sei in buona compagnia almeno mia non so no le ho finite che schifo devi rovinarci devi rovinarci questo momento tra me e Riccardo però devo dire che anch'io avevo voti molto bassi nel tema sai quello italiano chiaro però poi è una delle mie passioni infatti adesso è proprio l'umanistica cioè vado a rileggermi le poesie queste cose qua tu Riccardo non lo puoi sapere ma Ambrogio fa senti questa che è una trasmissione che va in onda dopo di noi e lui praticamente fa l'analisi del testo delle canzoni le interpretate fa la versione di latino più o meno nel senso andare dentro poi leggere non so i pasolini che hai citato prima associarlo a delle canzoni con testi anche importanti eccetera tenco poi non parliamo di tenco poi una domanda la faccio dopo facciamo così fargli una domanda poi mandiamo un po' di musica e dopo la canzone sentiamo la risposta e mi aggancio a quello che hai detto del vivere lentamente quanto è importante ascoltare oggi anziché parlare quindi silenzio e ascoltare ecco questa è una domanda interessante aggiungiamo a colui che poi in realtà tutti i giorni parla da instagram con i video quindi c'è questa dicotomia chissà ci racconti dopo la canzone allora dopo un po' di musica sempre qui su Christian Radio con Good Morning Milano in diretta con noi Riccardo Pedicone adesso è il momento di Tony F e Gaia e come cose con Malavita alle 8 e 35 minuti Christian Radio Good Morning Milano 3317853555 il nostro numero di whatsapp ci scrive Nello che ci dice Ambrogio di solito a quest'ora è a guardare i cantieri della M5 è lodevole che tu abbia ospitato in radio sono gesti belli ma in effetti dopo siamo d'accordo che andiamo a vedere qua c'è un cantiere appena aperto cavolo qua c'è mi spiace che c'è San Siro che non è ancora cantierizzato sai che roba dopo ci arriviamo Riccardo ti auguro di non finire mai come noi lo dico a Riccardo Pedicone il nostro ospite di oggi autore scrittore organizzatore di eventi e full of shit così dice nella sua bio raccontavamo appunto insomma della tua carriera da scrittore una carriera che vede già appunto due libri all'attivo ovviamente ne arriveranno altri ne sono sicuri anche perché in questo momento tu sei in collegamento da dove? io sono a Venezia in questo momento perché? è per farmi un po' un ritiro un ritiro personale mi sono ritirato da Milano un mese mi sono dedicato un mese ok e scriverai questo mese sicuramente sì 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 in realtà sto scrivendo moltissimo Venezia è una cosa meravigliosa che secondo me è veramente una città una città feconda per l'istoria vedi 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 e c'è il silenzio che dicevamo prima e c'è il silenzio cosa che a Milano ormai è così impossibile trovare sono tanti turisti però c'è il silenzio che è importante il silenzio ascoltare anche infatti la domanda era rifacciamo la domanda Alberto quanto è importante ascoltare oggi e quindi stare in silenzio ma per ascoltare anche quello che dicono gli altri perché l'impressione è quella che oggi ci si parla addosso si dice tante cose però non si dice nulla alla fine si fa tutto frenicamente velocemente e vivere lentamente comporta anche ascoltare quello che dice un'altra persona ma ascoltarlo veramente negli occhi avete notato quanto poco ci si guarda in faccia quando ci si parla oggi penso che adesso c'è anche l'intelligenza artificiale che ti fa in modo che quando sei col cellulare ti fa mettere gli occhi dritti però è una cosa incredibile io quando parlo con una persona voglio guardarla in faccia ascoltarla anche quello che dici Riccardo tu sei uno che parla tanto sui social quanto devi ascoltare prima per poter parlare così tanto è tantissimo io a volte faccio fatica in realtà a fare un video in una settimana di tempo cioè io ho bisogno di parecchio tempo in realtà per parlare da solo davanti ad uno schermo anche solo per un minuto e mezzo che poi magari taglio eccetera per me è difficilissimo se non c'è l'ascolto anzi io sono venuto in realtà qua a Venezia probabilmente per ascoltare riprendendo anche quello che ha detto Ambrogio che poi è il primo passaggio per raccogliere materiale e poi renderlo qualcosa di scritto avevo bisogno di ascoltare ascoltare una lingua diversa camminare una lingua diversa nel senso che ovviamente qua si parla in modo diverso con dei ritmi diversi rispetto a Milano come in ogni città d'Italia e volevo avere una sorta di silenzio nel quale volevo sentire emergere da questo silenzio i dialoghi dei passanti delle persone magari che discutono dentro le case quando cammini per le calli senti tutto non hai una macchina non hai un clacson non hai niente che ti possa disturbare se non la voce effettivamente delle persone e a proposito di Milano tra l'altro fondai nel 2022 con tutta una serie di amici ed è un'attività che ancora è molto attiva su Milano e anzi stiamo facendo dei grandissimi lavori per la città che si chiama Noce che è un'associazione culturale che è tutta fondata sul dialogo e riprendendo tra l'altro il dialogo e una parte fondamentale del dialogo è l'ascolto il dilatare i tempi cioè noi proviamo a ridilatare completamente i tempi cioè un dialogo ad oggi dura pochissimo perché lo facciamo con un tono di dibattito ma come fai appunto anche tu per condensare tutti questi tuoi pensieri tutti questi tuoi giusti anzi ragionamenti anche sul punto del tempo e tutto poi in realtà in uno strumento come Instagram ad esempio dove più di 60.000 persone ti seguono per cercare di raccontare lì hai un minuto e mezzo due minuti forse non di più come si fa? beh ci si deve adattare al mezzo comunque e sono sicuro che adattandomi al mezzo determinate persone potranno anche seguirmi in dei contenuti futuri più lunghi più approfonditi che non vedo l'ora tra l'altro di fare sinceramente quindi c'è un obiettivo c'è un obiettivo di lungo termine più profondo beh sì a me piace comunque sempre avere un piano e quindi anche quando ho deciso di fare i social è stato sicuramente adattarmi al mezzo io fino a cinque mesi fa non li avevo minimamente non avevo non ero attivo e quindi per me è stato tutto completamente nuovo ma con l'obiettivo comunque di star facendo qualcosa che poteva essere un contributo anche posso permettermi di interpretare la fatica che sta facendo Riccardo perché sta vivendo dei tempi che non sono i suoi nel senso che ai tempi negli anni settanta avevi tutto il tempo a disposizione di cercare scrivere e raccontare oggi cerca in qualche modo di fare la stessa cosa però con una frenesia che non si può è irrinunciabile e cerca di insomma di infilare una cosa grande in un pertugio molto molto stretto ed è lodevole da parte tua e penso sia molto molto difficile oggi fare quello che stai facendo ecco ci vuole molta volontà determinazione e molta capacità anche di sintesi cosa che non è non è sempre facile avere ecco la tua età molto giovane mi porta però a farti una domanda nel senso hai fatto i conti con il crescere cioè tu a un certo punto ovviamente crescerai quindi come potrai gestire la tua crescita proprio tua personale con magari i messaggi che invece stai mandando sei sicuro che rimarranno sempre quelli cambierà idea si evolveranno tra qualche anno ti sentiremo dire l'opposto di quello che dicevi nei tuoi primi video su Instagram hai fatto i conti con questo? sì ma io credo che per assomigliare a se stessi bisogna reinventarsi di continuo quindi sono un grandissimo paraculo da questo punto di vista però io ci credo molto in realtà io per esempio anche con la scrittura cioè la scrittura è un gesto di coraggio formidabile io metto su carta determinati pensieri che rimangono no? e effettivamente sono immortali cioè la poesia la scrittura è qualcosa che effettivamente sta fuori dal tempo la cosa molto interessante ed è in realtà la mia scuola di pensiero quando si tratta di scrittura è che per me ha senso ad oggi scrivere se si tiene traccia della propria evoluzione perciò se devo aspettare il fatidico giorno in cui sono sicuro delle mie idee probabilmente sarò anche sicuro di avere un sacco di rimorsi no? quindi hai detto una cosa eccezionale ma è giusto il fatto che ci sia l'evoluzione della persona quindi non è un cambiare idea è normale che si neanche si dice si matura si va avanti e si cambia ma non vuol dire che la coerenza è giusta non è giusto cioè si cambia l'ambiente cambia e poi l'importante è l'immortalità forse la parola la parola chiave è quella perché qualcuno diceva che bisogna o scrivere un libro o piantare un albero o fare un figlio ecco io i figli non ne ho il libro non l'ho scritto forse pianterò l'albero pianta l'albero tu scrivi è una cosa molto importante è un grandissimo gesto tra l'altro assolutamente visti i tempi dire di sì assolutamente no semplicemente quello che dicevo è che ad oggi non ci si può rifare alle narrazioni quelle che c'erano magari negli anni 70 cioè ad oggi comunque un giovane è iper contaminato iper stimolato cioè come sono veicolate le informazioni ad oggi una qualsiasi ragazzo una qualsiasi persona di giovane età ma non solo perché io lo vedo anche su mia nonna per esempio si può cambiare idea veramente anche due volte al giorno in qualsiasi dibattito sull'attualità è difficilissimo ad oggi mantenere un'unica idea cioè vediamo talmente tante cose cioè vediamo il mondo ci alziamo la mattina possiamo essere collegati con qualsiasi posto sul globo le idee sicuramente cambiano l'importante a mio avviso è la coerenza filosofica cioè avere una un'etica un'etica un principio dei principi dei principi quelli sono irrinunciabili a mio avviso sono d'accordissimo Riccardo allora siamo in chiusura quasi quindi ricordaci un po' appunto i tuoi collegamenti come fare a seguirti ma soprattutto abbiamo parlato dei tuoi libri come possiamo fare a leggere ad averli dove li troviamo? beh l'ultima uscita nascoggi è trovabile molto semplicemente sia online che nei punti vendita che ce l'hanno in catalogo su Instagram mi si trova come Rikipedi con la CKY e a Milano dall'autunno riprenderanno le attività di Spazio Noce che su Instagram è Spazio Noce e per chi volesse provare qualcosa di diverso a Milano delle esperienze che durano anche dei mesi di gruppi di dialogo training teatrali serate cinema di tutto e di più Spazio Noce è a Milano è opera a Milano quindi volentieri va bene ti sei già sappi che sei invitato qua all'ottobre cioè nel senso appena riaprita Spazio Noce sei qui in studio con noi così ci conosciamo non puoi scappare sarei molto molto contento infatti di conoscere persone e di averti qui in studio con noi un'ultima cosa mi piacerebbe che tu parlassi quando ci sentiamo la prossima volta dell'odore della cartoleria che è una cosa che mi piace tantissimo ancora adesso l'odore di cui che sei cresciuto ma sai che io compro dei quaderni qua a settembre solo per annusarli? no perché penso di iniziare ad andare a scuola no? e li compro li annuso oppure entro in una cartoleria con una scusa e sento è una cosa incredibile penso che ne hai fatto qualche riflessione in merito a questo sono sicuro sono sicuro se sappiamo il discorso cartolino infatti forse potrebbe essere l'inizio anche perché lo stimolo di scrivere è partito proprio da lì forse abbiamo già il tema per una prossima puntata allora grazie a Borgio grazie soprattutto a Riccardo Riccardo cos'è che non ti ho chiesto che ti sarebbe piaciuto invece raccontarci oh forse qualcosa legato alla scuola ah cioè oh no magari una una riflessione sul modo che abbiamo ad oggi di informarci studiare ma è una ma è una enorme parentesi ne parliamo a ottobre ne parliamo l'hai detto tu eh l'hai detto tu quindi ormai ti sei scavato la fossa da solo quindi sei qui con noi a ottobre dai va bene Riccardo grazie mille davvero di essere stato qui con noi ospite questa mattina buon ritiro so che sarà prolifico e sicuramente ne vedremo i frutti prestissimo grazie mille davvero a Riccardo Pedicone trovate su Instagram come Ricky Pedi e appunto cercate anche nei vari store potete trovare il suo libro ricordaci il titolo prima di chiudere nasco oggi ora lo so ecco perfetto grazie mille Riccardo a presto ciao andiamo con un po' di musica e poi teniamo qui per i saluti finali Ambrogio non scappare no a fra poco special special speciale come il nostro Ambrogio Curti ma che bello per Riccardo hai visto che roba Riccardo Pedicone seguitelo quando parli con chi scrive chi fa questa questa forma d'arte è bellissima potresti stare qui a fare radio tutto il giorno senza accorgertene anche perché i temi poi saltano fuori parlando ho visto che ti sei scaldato poi sono il diesel proprio mi scaldo è carburato e fra un po' sono fuori legge è il diesel 2026 mi pare non puoi più interrenare a B ci collegheremo dalle porte da Bettegrasso ti metti alle porte di Milano diventerò ibrido infatti mi sento già un po' ibrido non vogliamo sapere dove ti mettiamo la spina comunque adesso Nello sicuramente ce lo suggerirà quindi grazie Nello per il Whatsapp perché non leggeremo ma siamo già sicuri che arriverà non leggo una cosa che mi ha scritto perché insomma ha detto che sono figo sono figo guarda che quello lì è il messaggio della Vodafone che ti c'è ripeto il credito comunque 8.50 di oggi mercoledì 26 giugno mercoledì appunto oggi salutiamo Ambrogio nel senso che lui continuerà tutta l'estate quindi settimana prossima inizia la tua versione estiva più musica meno parole però riprendo alcune canzoni le spiego un po' approfonditamente e poi soprattutto tanta musica da ascoltare proprio in versione estiva quindi che dà la carica che dà e poi pezzi un po' un po' particolari scelti spero di aver fatto una bella cernita io credo tu non sai quando finiamo la trasmissione dopo abbiamo un attimino di relax ci mettiamo un attimino quei 10 minuti 4 ore che ci ripigliamo prima o poi di cominciare a fare la produzione di tutto il materiale che finirà sul podcast e poi preparare la puntata del giorno dopo e in quel frangente sottofono ci sei tu certo che quindi ci dai sempre un po' di respiro poi li scopro anch'io perché io quando negli anni 70 non avevo i soldi per i dischi e queste cose mi sto sfogando adesso molti li scopro adesso li ascolto mi approprio di questi brani e li gusto come bisognerebbe fare oggi nonostante la musica liquida pensa Ambrogio che appunto negli anni 70 non avevi i soldi per comprare i dischi adesso non li avresti ancora i soldi ma per fortuna non ci sono più i dischi ma c'è la musica di mp3 quindi riesci un attimino a gestirtela i dischi in realtà li ho ancora li guardo li ho comprati li sto comprando adesso anche usati hai anche venire almeno il giradischi ce l'hai ho quattro piatti non ti dico nient'altro servizio da quattro però non ascolto pochissimo perché chiaramente è più difficile ascoltare la musica su dischi io da poco ho preso anche un giradischi poi sono passato da casa di mio papà a fare il ladro di dischi ho tutta la discografia dei Beatles dal principio alla fine perfetto però effettivamente è complicato perché tu per esempio il Blue Album con il Greatest It's diciamo dei Beatles tu metti su il lato A capito dopo cinque canzoni devi andare lì girarlo come diceva Riccardo fa parte della vita di vivere lentamente e questa è una delle cose un rito apri la copertina prendi il disco salta da una parte è quello dall'altra parte hai Alexa fammi ascoltare i Beatles lo so però da questo punto di vista il disco deve essere gustato giusto non ho anche il salto non avrei comprato il giradischi ogni tanto salta she love you she love you e dopo lo prendi mandi avanti la puntina pensa che ecco ho un disco degli Iron Butterfly in Agatha Davida che non si riesce ad ascoltare da quanto è solcato quindi non so cosa facesse mio papà con quelle canzoni andiamo con la nostra sigla che è il giardino dell'Eden mi ricordo era Agatha Davida 8 e 54 minuti mercoledì 26 giugno siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano questo oggi con noi qui Ambrogio Curti a questo punto di solito dico dopo di noi Ambrogio Curti dillo tu dopo di noi ci sono io ci sono io mi hai fatto venire a Agatha Davida sì che era un il titolo era il giardino dell'Eden esatto è uno spot pubblicitario carosello degli anni renebriane extra che era una uno spumante e ricordo che c'era l'uomo dal vestito bianco uno 007 che faceva lo spot con questa musica che era una musica molto 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 in voga ai tempi psichedelica che voleva dire il giardino dell'Eden però detto da un ubriaco Agatha Davida Agatha Davida e quindi appunto 9.05 dopo il giornale radio abbiamo Ambrogio Curti con SentiQuesta che sono stato molto molto contento di avere qui io ringrazio te ringrazio Elisa che è in regia e ringrazio tutti gli ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia e la fascia mattutina è stimolante sicuramente ci sveglia e lo facciamo anche per svegliare voi a casa le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di Ambrogio Curti e Fabio Ranfi codiovate in regia da Elisa Galvarini alla produzione noi siamo qui fino a venerdì Ambrogio grazie mille grazie a voi e ci sentiamo ci sentiamo ci sentiremo a risettembre a risettembre con Ambrogio perché noi chiudiamo venerdì ma invece a domani con tutti voi perché andiamo avanti ancora a domani ciao a tutti ciao 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 ciao